La scriviamo tutti insieme, anche con voi questa manovra. Questo ci fa piacere, devo dire che anche sia la lettera da un lato da parte dell'Europa, sia le risposte dal punto di vista tattico del nostro governo fanno capire che si cerca un dialogo costruttivo e non uno scontro che non è nell'interesse di nessuno. Detto questo abbiamo già detto che lo sforamento del 3% è un errore, la procedura di inflazione non è nell'interesse del Paese e questo è un elemento essenziale. Altra cosa è l'emissione di Eurobond per una grande dotazione infrastrutturale transnazionale nell'interesse dell'Europa e dell'Italia. Infatti su questa questione, sui mini-bond avete un giudizio? Siamo in linea con Draghi, significa debito pubblico evidente, poi come lo fai o con quale strumento non è importante. Il problema è che noi non possiamo realizzare più debito pubblico salvo che lo facciamo per investimenti nella logica degli Eurobond o altri strumenti da concordare con gli altri Paesi.